Elena, quindi parlaci un po' della tua scuola, quali corsi, che tipo di formazione offrite, quali sono le attività che svolgete? Beh, la nostra scuola è un istituto omnicomprensivo, è uno dei pochi nella realtà nazionale, è un istituto che accoglie dai bambini dell'infanzia fino ai ragazzi che poi prendono la maturità, nel nostro caso abbiamo l'istituto alberghiero, che è un professionale e che accoglie appunto ragazzi che poi sfrutteranno il loro diploma nel mondo del lavoro, della ristorazione e dell'accoglienza turistica. Che è un mondo sicuramente che offre molto lavoro, non in questo periodo preciso, ma è sicuramente uno delle attività, è uno dei lavori che offre molto lavoro in Italia, parlo. Non solo in Italia ma anche all'estero, noi nella fattispecie abbiamo già degli accordi con una struttura che è il Van der Waal a Luxemburg, si trova a Darlon, in Belgio, con lo chef Alessio Zappalà, che è un amico di vecchia data, che ha sposato il mio progetto di ampliamento dell'offerta formativa della mia scuola. Io sono dirigente da un anno e mezzo circa, quindi ho raccolto l'eredità di questa importante istituzione da poco tempo, poi chiaramente in piena pandemia ci siamo dovuti dedicare ad altro, però l'offerta formativa è in crescita. Noi abbiamo due allunni diplomati che stanno già lavorando in Luxemburgo con un contratto a tempo indeterminato, quindi abbiamo già creato questo primo legame importante. Questo è sicuramente un grande punto di forza per la vostra scuola, perché se già ha una storia abbastanza lunga, attraverso questi tipi di collaborazioni, attraverso queste conferme sicuramente la vostra immagine salirà ulteriormente di livello, giusto? Ce lo auguriamo tutti quanti. Diciamo che l'offerta formativa è in crescita per tutti gli ordini di scuola, perché stiamo offrendo anche, oltre insomma alla vecchia offerta formativa, alla solida offerta formativa della scuola Pestalozzi che consiste alla scuola dell'infanzia nel tempo normale, che vuol dire 40 ore settimanali, e la stessa cosa il tempo pieno a scuola primaria con le 40 ore settimanali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è l'opportunità per i bambini di essere messi, di essere posti al centro, come un po' intendeva Maria Montessori, al centro del processo formativo, del dialogo educativo tra docente e discente, attraverso attività laboratoriali. Quindi tutte le attività, le vecchie educazioni che alla nostra scuola media, noi parlavamo di educazione musicale, educazione tecnica, sono presenti anche nel curriculum di scuola primaria, ma anche di scuola dell'infanzia in piccolo come attività propedeutiche, noi diamo l'opportunità di avviare nei pomeriggi, quindi dopo il prazo che si fa tutti insieme, abbiamo riavviato da poco la mensa, appunto perché in questo periodo avevamo preferito temporeggiare e andare in DDI, adesso stiamo lavorando con tanta gioia da parte dei bimbi che finalmente hanno l'opportunità nuovamente di stare tutti insieme durante questo momento che è altamente formativo e altamente importante per quanto riguarda la socializzazione tra pari. Quindi in questo periodo Elena, visto che la scuola materna, la scuola di infanzia, hanno sempre continuato, avete avuto la scuola un po' piena, un po' mezza vuota, un po' completamente vuota? Esatto, noi abbiamo avuto fino a poche settimane fa la scuola alberghiera in didattica a distanza, fatte salve le attività laboratoriali, perché i ragazzi venivano a svolgere regolarmente le attività nei laboratori di sala, di cucina e di accoglienza turistica, invece abbiamo avuto in presenza, a parte il momento della zona rossa, abbiamo avuto in presenza infanzia primaria e secondaria di primo grado. Anche la secondaria di primo grado ha le sue peculiarità, noi abbiamo l'indirizzo musicale, abbiamo due plessi, al plesso centrale abbiamo l'indirizzo musicale, dove i ragazzi possono essere avviati allo studio di quattro strumenti musicali, quattro strumenti musicali come pianoforte, violino, percussioni e chitarra, e invece al plesso in succursale abbiamo avviato da un paio di anni un ampliamento dell'offerta. Ah, quindi avete due plessi? Noi abbiamo tre plessi. Ah, tre? Addirittura. Tre plessi fisici. Poi all'interno dei plessi fisici abbiamo i plessi dei vari ordini e gradi. Quindi abbiamo un plesso unicamente di scuola e l'infanzia, un plesso centrale dal quale io ti sto parlando, che accoglie infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Poi abbiamo il plesso di Vialenita che accoglie tutti e quattro gli ordini, quindi che accoglie infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Wow! In realtà accoglie... Ma quanti alunni ci sono a questo punto? Novecento circa. Siamo circa a novecento alunni. Abbiamo anche però... Non è finita qui. Noi accogliamo anche... Novecento solo in uno? Solo in un istituto? No, solo in un istituto. L'istituto è tutto. Poi nei vari plessi ci sono chiaramente una parte di questi alunni. Chiaramente vengono... Ma novecento sono di tre plessi o solo uno? Di tutti e tre i plessi. No, no, di tutti e tre i plessi. Ah, ok. Ok, ok. Poi abbiamo in realtà altri corsi. Noi accogliamo come punto di erogazione il CPA numero uno di Catania, quindi le cosiddette scuole serali, le vecchie scuole serali. Adesso si chiamano CPA. Abbiamo il primo livello. Noi accogliamo, quindi coabitiamo con il CPA numero uno e lì frequentano giovani e meno giovani che devono acquisire la cosiddetta licenza media. Quindi ci sono anche corsi di alfabetizzazione per non italofoni, quindi all'acquisizione delle competenze base, secondo il quadro comune di riferimento europeo, la due, il livello A2, il livello soglia per la conoscenza di italiano come lingua seconda. Abbiamo anche, non ho finito qui, abbiamo anche il corso serali dell'alberghiero. Quindi i percorsi di secondo livello abbiamo un terzo periodo. I ragazzi quest'anno conseguiranno la maturità insieme ai ragazzi del diurno. Quindi dove c'è istruzione c'è l'Istituto Pestalozzi a Catania. Perché ci manca molto poco per coprire a 360 gradi, manca proprio, che so, la scuola in ospedale, ma poi abbiamo tutto, ecco, non ci manca nulla, non ci manca nulla. Allora, a questo punto ricordiamo le pagine Facebook e le pagine Instagram, per tutti coloro che sono interessati comunque a questo istituto, ad iscrivere magari i propri figli, quindi vi invito a ripubblicare questa videointervista sulle pagine social, in modo tale che tutti possano venire a conoscenza dettagliatamente di questo istituto. Quindi Facebook è Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi a Catania, stessa cosa per Instagram. Non resta che salutarti Elena, ricordare l'hashtag del giorno che è Scuola Catania. Vi auguro il meglio per la vostra scuola, per i vostri allunni, e che tutto possa tornare come prima, visto che stiamo vivendo un periodo molto particolare. Grazie. Posso aggiungere una cosa? Assolutamente. Allora, due cose in realtà. Noi abbiamo avviato al plesso di Vialenitta il corso potenziato di educazione fisica, con attività supplementare di scienze motorie, perché crediamo molto nell'importanza, nella valenza del vecchio logo, che è un logo, insomma della vecchia, della antica idea ateniese di mens sana in corpore sano. Quindi diamo l'opportunità ai ragazzi della scuola media di avere queste due ore supplementari di educazione fisica. Ma non finisce qui perché è un progetto che vedrà l'avvio negli anni prossimi, anche di attività di psicomotricità, utilizzando appunto l'organico di potenziamento di educazione fisica che abbiamo nel nostro istituto, anche per i bambini dell'infanzia e bambini di scuola primaria, perché è importante in quel momento, in quella fascia d'età, intervenire in questo senso. Molte delle disabilità o dei disturbi evolutivi nascono dal mancato coordinamento oculo-manuale o della fino e grosso motricità. Quindi andiamo a lavorare in quel settore di età per poter ovviare dei limiti del possibile, chiaramente, all'insorgenza di queste problematiche. Un'ultima cosa, credo di essere, lo dico con molta umiltà, l'unico istituto alberghiero d'Italia che in questo periodo sta proponendo con l'aiuto dei docenti delle materie professionalizzanti, stiamo noi lavorando e abbiamo già pubblicato diverse lezioni, microlezioni, pillole di saggezza con dimostrazioni di esercitazioni pratiche, quindi con la preparazione dei piatti tipici che siano un primo, un secondo, un antipasto o un altro in cucina, in sala con la preparazione di cocktail oppure di piatti preparati con la cucina flambè ed altre indicazioni pratiche su come servire il vino piuttosto che la degustazione e l'accoglienza turistica con delle attività di accoglienza, di ricezione di telefonate, prenotazione, alberghiere e quant'altro. Diciamo che questa è un'esperimentazione che è partita da noi, vedo che altri docenti stanno apprezzando, dico docenti di altri alberghieri, non solo siciliani. Cosa vorremmo fare? Vorremmo farlo anche negli anni successivi per gli altri ordini di scuola. Tutto ciò andando a coniugare l'internazionalizzazione, l'apertura all'estero, io credo molto all'internazionalizzazione, con progetti Erasmus ed altri. Grazie. Perfetto, grazie Elena, ti auguro una buona giornata e ancora vi auguro il meglio per la vostra scuola. Grazie ancora. Grazie a te Claudio, a presto, buon lavoro, buona giornata a tutti. Buon lavoro a voi. Rimanete qui con noi su Radio News 24 Nero con altre interviste e storie.